Progetti in cui ha investito Binance con i quali riceveremo un potenziale airdrop Benvenuti cari cripto affezionati in questo nuovo video con un video particolare riassuntivo di questi progetti nei quali Binance Labs ha fatto da incubatore o ha investito proprio direttamente all'interno comunque dell'acquisto dei token quindi nella parte di seed save Come sempre detto sono molto interessanti perché richiedono magari delle task giornalieri molto semplici che possono richiamare poi delle rewards, una distribuzione di queste alla fine quando ci sarà l'effettivo lancio comunque generale quindi del token e anche sulla piattaforma stessa di Binance perché l'80-85% tutti quelli nei quali investe Binance vengono poi listati direttamente su Binance alcune ci sono piccole eccezioni che a volte non vengono fatte difficile in realtà però questa potrebbe essere una percentuale Oggi quindi andremo a vedere quali sono di questi, quali sono importanti nei quali interagire e specialmente fare queste task giornalieri molto semplici per rassicurarci poi un posto a questo nuovo Air Group Se questa tipologia di contenuti vi piacciono lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati Bene direi di passare a schermo e di scoprire di quali progetti si tratta Eccoci nel primo progetto nel quale ha investito e ha incubato comunque Binance Labs in questo caso si chiama proprio Puffer Puffer Finance l'avevamo già visto anche in realtà come vi faccio vedere qua dal post dentro al mio canale Telegram qua avevamo appunto parlato di quanti comunque fondi fossero stati raccolti, 7 milioni All'interno c'è Binance Labs e anche Ethereum Foundation e questa è una cosa molto interessante con la quale appunto diciamo abbiamo già un punto di partenza comunque 7 milioni Non è una cifra gigantesca ma è una cifra interessante perché comunque chi aveva comunque listato e aveva interagito comunque con vecchi progetti nei quali erano attorno agli 8-10 milioni e c'era dentro Binance Labs c'era stato poi un bel approccio da parte dell'airdrop di Binance Labs qua trattiamo di restake come vedete appunto e quindi abbiamo un qualcosa di insomma girano capitali anche perché qua c'è da dire che questo è su rete Ethereum in questo caso ed è per questo che poi c'è anche Ethereum Foundation Qua dentro vedete come Total Value Staked quindi il totale che è stato raccolto qua dentro attualmente è di 968 milioni di dollari all'interno pari a 347 mila Ethereum Puffer Point sono i token, scusatemi, i punti che vengono rilasciati per chi mette all'interno comunque gli Ethereum deposita all'interno di Puffer e perché questo poi andrà a collegarsi con il rilascio del token di Puffer che è stato praticamente annunciato e in più che cosa danno? Danno anche gli agent layer point quindi andiamo a formare anche per agent layer quindi qua è proprio un tripudio fantastico perché potenzialmente per l'airdrop di Puffer e poi per i punti di agent layer quindi questo è molto molto meglio c'è anche la parte di API, la parte di API è il 3.3% non è mai una cosa esagerata per quanto riguarda Ethereum però è sempre un qualcosa in più sicuramente che fa sempre comodo nella parte che avevamo visto su Telegram era eccolo qua la parte 1 ok quindi questo era il primo capitolo infatti completare il capitolo 1 con delle semplici task social in questo momento non è possibile farlo perché non è più cliccabile proprio il capitolo 1 adesso non so se per i nuovi utenti sia possibile farlo ma non mi sembra proprio che sia ancora possibile è possibile accedere al capitolo 2 nel capitolo 2 però quello che bisogna fare è depositare gli ST e TH gli ST e TH li potete trovare anche su Bybit o su altri comunque exchange se voleste utilizzare poi il link comunque vi metto tutto in descrizione ovviamente il link exchange e il link comunque dei progetti perciò potete fare quello che volete però ST e TH non ETH e attenzione Ethereum Mainnet questi quali potete prenderlo da checks quindi exchange oppure da uniswap ad esempio e quindi cambiare ovviamente le fees saranno un pochettino più alte una volta fatto questo che cosa riceveremo? riceveremo i PUF e TH e questi ci daranno punteggi sia di agent layer sia di path finance quindi abbiamo un po' di cose siamo comunque ancora all'inizio seppur siamo già al capitolo 2 come vedete c'è 3, 4 e 5 quindi c'è ancora un po' di cose da fare adesso come adesso stanno mantenendo il capitolo 2 più lungo perché comunque c'è un accumulo di punti i primi che entrano sostanzialmente prendono più punti però sappiate che qua c'è bisogno di capitale ok questo deve essere chiaro chiarissimo anzi perché? perché questo è il primo progetto di 3 che vi farò vedere all'interno della Mainnet gli ultimi 3 poi saranno totalmente in testnet molti di voi magari li avranno già visti molti di voi magari non li avranno ancora visti l'ultimo molto probabilmente non l'avrete visto successivamente a Puffer Finance abbiamo Kilo X Kilo X ragazzi è come a Evo che stiamo trattando in lungo e largo da più e più volte quello che dobbiamo fare è semplicemente andare ad aprire delle posizioni o in long o in short con comunque un'operazione che vogliamo quindi non so io voglio aprire ah minimum order amount is 50 vediamo un po' se però mi fanno ok infatti l'everage quindi qua andrete a decidere comunque la leva che volete mettere ad esempio io voglio mettere 100 voglio fare un vediamo un po' che cosa mi da 4000, 6000 ok quindi io in questo caso voglio fare una cosa del genere posso fare il buy ok questo mi fa aprire poi l'operazione che è attenzione sulla parte di BNB quindi buying a smart chain perciò le fees non sono fuori di testa ok quindi potete tranquillamente farlo fate a prova eccolo qua quindi autorizzate e da qua poi vi si apre l'operazione qua andrete sostanzialmente ad operare a utilizzare comunque la vostra operatività che volete e fare fare ovviamente la parte di volumi qua la parte importante sono i volumi ad esempio qua adesso gliel'ho fatto vediamo un po' se se me l'ha aperta open order dovrebbe ok position eccola qua quindi a qua io ad esempio ho fatto 6000 perfetto io ho fatto 6000 di volume io quindi vado a market ad esempio faccio una chiusura 0.99 ok chiudo la mia posizione ok in long che avevo aperto e ho fatto già i miei volumi quindi una cosa molto 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 semplice potete fare anche la parte di earn che i kilo x volt quindi potete depositare e farmare comunque un po' di API qua attualmente 83% quindi anche questo fa comunque volumi c'è anche la parte di bridge quindi potete sfruttare anche la parte di bridge di kio x ovviamente la situazione che dà più vantaggio a livello di volumi è ragazzi lo sapete è la parte dei trade perché con la leva ovviamente si ha più volume in assoluto ok se vedete qua adesso io ho 134 prima c'ho 148 quindi tra tutto per questa posizione comunque aperta e chiusa istantaneamente mi sono andati un 12-14 dollari comunque per il posizionamento quindi valutate se magari se dovete spendere un pochettino di più fate una posizione abbastanza grande così da avere più volumi comunque possibili e incrementare la vostra elegibilità ecco questo sicuramente è la parte più importante ovviamente vi metto sempre il link sotto in descrizione perché attenzione su tutti questi qua che stiamo trattando stanno uscendo fuori a migliaia di siti scam identici quindi davvero fate molta molta attenzione successivamente etena ragazzi etena molto interessante perché ci hanno investito grossi grossi fondi tra cui Binance Labs Paypal Labs c'è anche comunque Franklin Templeton ce ne sono un po' infatti se andiamo a vedere su Telegram eccolo qua eccolo qua eccolo qua etena che avevo buttato fuori il 15 febbraio quando era proprio il giorno 1 nel quale è partito comunque lo stake cosa bisogna fare come visto qua anche 7 milioni Binance Labs X Venture Dragonfly Delphi e poi l'avevo scritto su Twitter gli altri arrivati qua dovremo appunto andare a dare liquidità sostanzialmente quindi dovremo mettere liquidità all'interno quello che dovremo fare come scritto qua nello shirts avremo allora prima di tutto guardiamo che ci sono solo solo 23 mila utenti comunque partecipanti questo è tantissima roba perché 23 mila siamo pochissimi è vero che è l'epoca 1 quindi ce ne saranno degli altri molto probabilmente però partire già dal giorno 1 è davvero tantissima roba se avete visto la Telegram siete partiti dal giorno 1 dovrete andare a dare comunque liquidità nella LP comprare semplicemente buy and hold USDE quindi sostanzialmente voi dovete venire qua buy da USDT USDC quello che volete andate a comprare USDE e quello vi basta cioè di tenerlo così nel wallet fate un dollaro già comunque vi viene contato poi ovviamente vi viene contato in base a quanto voi avete se avete un dollaro 5x vuol dire che sono 5 punti che vi calcolano al giorno poi stake and hold stake and hold dovete venire qua e mettere gli USDE in stake che si trasformano in S USDE e questo vi mette in stake come scritto qua avrete 7 giorni prima di fare la stake ok quindi dopo 7 giorni potrete fare la stake non prima però vabbè per metterli qua potete potete farlo tranquillamente e quindi fare lo stake poi c'è la parte di invitare altre persone che mettono dentro comunque capitali la parte che dà comunque più punti in assoluto ragazzi è il provide liquidity and lock LP tokens 20 per al giorno questo è tantissima roba è un pochettino più costoso perché siamo su rete Ethereum attenzione e qua sono le disponibilità di quello che noi possiamo fare quello che possiamo fare è depositare in comunque nelle varie pool USD USDC USD CRV USD eccetera eccetera però dovete stare attenti a una cosa questo lock limit perché sono già stati tutti colmati cioè pensate in due giorni sono stati già riempiti tutti dal giorno 1 c'è solo c'è solo disponibile USD MK USD quindi qua avete preso USD e poi potete andare a prendervi ovviamente gli MK USD che vi fa vedere direttamente da qua quindi vi rimanda su curve e potete poi vederlo direttamente fare lo swap se vi serve quindi molto semplice però molto molto interessante a Etena attenzione adesso possiamo passare alle testnet molti di voi magari già conosceranno Gumbel Gumbel ha fatto comunque una stagione già abbastanza abbastanza grossa abbiamo comunque tutta la parte dei licechini quindi dobbiamo venire qua a fare il licechino ogni volta e poi mettere la parte di referral che avrete qua io adesso non ne ho più tra l'altro mi sono finiti comunque e non c'è niente altro a fare la parte dei dei ruoli li potete solo prendere su su Discord il gold lo potete prendere partecipando agli eventi di Gumbel e nel quale possono poi darvi la partecipazione al ruolo oro non è facilissimo però adesso c'è un evento quello del giochino che ho condiviso e lo trovate sempre su Telegram e da lì potete andarlo a trovare tranquillamente di partecipare però bisogna attendere un pochettino però molto 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 interessante Gumbel potrebbe dare ovviamente non un airdrop gigantesco perché è tutto completamente gratuito tutto completamente in testnet e quindi bisogna bisogna avere pazienza e non aspettarsi chissà che cosa successivamente abbiamo QNA3 quindi questo è stato confermato completamente cioè confermato l'abbiamo visto un tempo e tempo fa come vediamo qua possiamo andare a cercare QNA3 se lo andiamo a vedere risale a un po' un po' di tempo fa eccolo qua e quindi questa parte qua che abbiamo visto a dicembre quindi siamo a febbraio inoltrato ci siamo comunque addentrati parecchio all'interno di di questo e ora come ora tutto è basato sui token questi qua climati ogni giorno che voi potete prendere sta buggando un po' è parecchio e quindi a me tipo adesso mi fa vedere 47 ma in realtà ne ho molti più di credits ma non capisco perché e l'altra cosa importante è il computer mining quindi dovete semplicemente prendere un'estensione e farla lavorare eccolo qua adesso si è disconnesso ovviamente perché ho disconnesso il wallet però questo è importante perché vi possono accumulare degli ulteriori comunque coin giornalieri che fanno sempre comodo quindi non è più importante la parte della votazione successivamente abbiamo anche il pre-alpha e lo ZK pass che è simile tipo a Ether Etherscore cose così praticamente identica come cosa e quello che possiamo vedere qua semplicemente che è tutto tutto completamente in testnet potete andare ad interagirci ecco bugga tantissimo cioè a volte proprio si interrompe completamente dovete ricaricare il sito e da qua ecco quello che dovrete andare a fare semplicemente è fare questi free mint attualmente però prima dovete installarlo quindi andare su install ZK pass transgate e questo dovete aggiungerlo poi fare ovviamente la verifica su questa estensione io qua non l'ho fatto perché l'ho fatto sull'altro dispositivo e da qua potete fare appunto questi free mint qua non è ancora disponibile ok coming soon non c'è ancora niente quindi siamo ancora in una fase molto 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 early però molto interessante fatemi sapere se li state facendo tutti quanti questi se li conoscevate se non li conoscevate se li farete se avete riscontrato dei problemi e come ti state trovando abbiamo visto comunque questa marea di progetti e non saranno gli ultimi perché ne arriveranno sicuramente degli altri nuovi con i quali potete interagire ne abbiamo visti anche comunque in passato come si sono mossi e quanti comunque ne sono usciti perché ogni volta c'è un po' un ricircolo è vero è che apriamo una parentese alcuni a volte ci possiamo chiedere e tutti noi ce lo saremmo chiesti almeno una volta ma perché Binance investe in alcuni progetti che sostanzialmente non hanno un senso vero e proprio però vabbè queste sono delle piccole particolarità comunque comunque se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like iscrivetevi al canale per non perdervi nessun nuovo Air Group e specialmente anche nuovi aggiornamenti e nuovi progetti che ci sono